Ma guarda c'è un'altra macchina rovesciata Gli piace proprio ribaltarsi in sta zona Non ci puoi fermare qua? C'è un gradino un po' alto però C'è un po' alto, tanto alto Ce la fai per tornare su? No, 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 vieni giù Vieni giù, che cazzo, no No, guarda che lì non c'è, lì non c'è Sì, ma non voglio fermarmi qui Allora, qua no, e poi No, non vedi che non riesco a scendere, come faccio? Cosa vuol dire come fai? Qua non c'è, lì dove ti sei fermata non c'è il gradino No, 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 perché Perché Dai vai avanti, scass... Dai, su, pedalare 10.000 euro l'hanno preso Sì, tutto quello sbattimento lì per 10.000 euro Sono più i danni che hanno fatto alla posta Sì A tirargli giù il muro che non il bottino Poi erano in metà di 1.000, cosa hanno guadagnato? 1.000 euro a testa? Sì Wow Cioè, questo beneficio... Non ne ho visto molto che valeva la pena, sinceramente, però... Tugo Adesso faccio come gli anziani che leggono mi tutti i cartelli dei paesi La temperatura è scesa a 28, più piacevole, in effetti, dei 33 della pianura Attenzione, velocità controllata Però non si sa qual è il limite, perché i cartelli non ce n'erano Ah, guardalo lì Qua Cioè, magari sono tutti vuoti, eh Molto probabile, però... Nel dubbio... Vai, raccontami qualcosa di interessante Ma... Mi fanno male le braccia Wow, che racconto interessante E il culo come va? Quello lì non lo sento già più Da no Facciamo una pausa? Quando arriviamo in cima al passo Mancano 4 chilometri Ah, ok Salve Ah Salve Qua mi pare di capire che c'è un cantiere Comunque dice 3.5 chilometri 37 minuti Sì, vabbè Ho qualche problema Infatti quando l'ho impostato a Parma dicevo 1 ora e 40 Mi pareva un po' troppo Occhio Sì, che 1 ora e 40 faccio come oggi E non va Prendo il traghetto E arrivo anche in Sardegna Quasi Flashback Bene fans, siamo sbarcati Siamo nel viale della stazione C'è della stazione Del porto C'è un traffico della Madonna Adesso dobbiamo andare verso destra Comunque viaggio veramente della speranza Un caldo della Madonna Adesso dobbiamo uscire da Olbia Luna, non è neanche salutato Ciao fans Vuoi raccontare qualcosa anche tu? Se no, poi anche mio nonno mi dice Eh, parli sempre te Non la fai mai parlare Parla Luna, di qualcosa Allora Abbiamo patito un sacco il caldo Abbiamo dormito in cabina Fortunatamente Però poi ci hanno fatto aspettare Tipo un'ora in piedi Prima di farci entrare nei garage Quindi è stato molto Questa ammista Non riesco a passare Zio Pedro Vuoi aggiungere qualcos'altro? E niente Speriamo che il traffico finisca presto E di scannare un po' Prendere un po' d'aria End of flashback Occhio Questo è vuoto Si vede proprio che è vuoto Oh, senti che Come si sta meglio Comunque scelta di mettere L'abbigliamento tecnico Non la tuta Lo rifarei A quest'ora se no Cioè Oltre a tutti i mali possibili C'è anche Mali alla ginocchia Eh, io già così Ho le uova sode Se avessi messo la tuta Avrei avuto le uova sode E in più Tipo Rifurante No, come sono Fatte a pressione Tipo nella pentola a pressione Cioè, sode e a pressione Wow Ah, mamma mia Ah Attenzione Curva destra Manca poco Manca poco Dice un chilometro e uno Alla fine Quello sono tre i passi Sì, qualcosa del genere Però dovrebbero essere tutte curve Praticamente Fino all'arrivo nel hotel Salve Vabbè, se c'è questa temperatura Passo della Cia Passo della Cisa 1041 metri 50 chilometri orari No, non farmi fermare lì Non mi fermo lì Che? Non mi fermo qui Ah, ok Se no mi sarei fermato sotto al cartello Se proprio Lo so che C'è troppa gente Per i tuoi gusti Sì, molto Comunque Passo della Cisa Adesso svalichiamo E andiamo giù Verso Il mare Io devo schiacciare Continuo sul navigatore Quindi prima piazzola Mi fermerò Beh, non mi aspetto Paesaggi super wow Quindi da fermarsi Far foto Cioè mi immagino Che sia un po' Tutta così la strada Sì Mezzo Alle colline così Sì E i boschi Cioè divertente Ma Ma non Paesaggi d'Alpi Sia italiani Che svizzere Che francesi Diciamo che sarà più Un tour Di guidato Che paesaggistico Cosa fa? Cerca i funghi questo? Cerca i funghi Nuovo metodo In moto Per far meno fatica Questa è una strada Ah, guarda Magari questa è in vendita Questa è messa meglio Guarda qua Che bella C'è anche il giardino Wow Ma guarda C'è un'altra macchina rovesciata Gli piace proprio Ribaltarsi in sta zona Non ci può sempre Ma qua C'è un gradino un po' alto Però C'è un po' alto Tanto alto Ce la fai per tornare su? No, 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 no Vieni giù Vieni giù Che caso No No, guarda che lì non c'è Lì non c'è Sì, ma non voglio fermarmi qui Allora Qua no E poi No, no Non vedi che non riesco a scendere Come faccio? Cosa vuol dire come fai? Qua non c'è Lì dove ti sei fermata Non c'è il gradino No, no Non c'è No, perché Perché Dai, va avanti Scassi Dai, su Pedalare Dobbiamo sempre complicarci la vita per cazzate Dai Pedala Scegli tu il posto Mi raccomando Occhi aperti Agli autovelox Qua non va bene Guarda che spiazzo No, perché c'è dall'altra parte della strada No, qua non mi fermo un c***o Ci fermeremo a Pontremoli praticamente Salve Salve Può anche parlare Non è che devi stare in silenzio Sto cercando un posto Non è che se sta in silenzio lo trovi più velocemente Tornante Attenzione Primo tornante che vedo l'una Davanti a me Buono Buono Guarda che puoi stare seduta Oh, Montelungo Terme Salve Salve Oh, ciò che c'è il 50 No Figa Non possono fare bene le strade Oh, Terme di Montelungo, eh Wow, immagino Saranno 5 stelle Secondo me sono chiuse Quale è sta roba? Non ho un cartello Guarda che in paese non c'è uno spiazzo Ci sarà, sì Salve Tipo lì ti faceva schifo È tutto meraviglioso Senti, va Il posto peggiore che c'era Un posto proprio di merda Con tutto il gradino dall'altra parte Era meglio dove mi ero fermato io, eh Non è vero Sì, sì Almeno era grande Quasi a mezzo In mezzo alla strada Vabbè, è larga almeno Vedo tutti i colori sfalsati adesso Io non ce la faccio più E addirittura? No, veramente Cioè, ti giuro Qua mi brucia Mi brucia sotto qua Mi brucia proprio Io cosa ci posso fare? Porta fortuna Se non la uccidi però E quindi adesso Riprendiamo la strada In direzione Passo della Cisa Sei pronta? Guarda Andiamo Perfetto E poi 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 Grazie a tutti.